spesso ci si imbatte nel proprio destino sulla strada presa per evitarlo tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non mi lascia in pace tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene le cose che possiedi alla fine ti possiedono il caso non esiste così un giorno ci bussano tutti nel forno e poi riposo alla fine siamo capaci di sopportare molto più di quanto pensiamo natura, libri il caso non esiste musica in fondo la vita è tutta un fottuto concorso di bellezza dopo l'altro una persona mi ha aiutata a mettermi davanti a uno specchio l'ingrediente segreto è solo venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile ce la mente è la prima ma è un po' di più? qual è la prima ma è un po' di più? Grazie a tutti.